Cari amiche e cari amici, questa è un'intervista che ho trovato su una rivista online che si chiama Rivelazione. Il titolo è Il vero Papa è Benedetto XVI e non Bergoglio, io ce l'ho promessa in unione con il vero Vicario di Cristo. Parola di Don Enrico Bernasconi, intervistato dal direttore di Rivelazione Samuel Colombo. Io adesso vi leggerò le parole di questo giovane e coraggiosissimo sacerdote che si chiama Enrico Bernasconi. Molti sentiranno cose già dette, ma tengo a ripeterle, non l'ho voluto tagliare, perché nel decimo toro ci sono continuamente nuovi iscritti. Pensate che solo in quest'ultimo mese si sono superate le 4.000 iscrizioni. E quindi è bene che la gente sappia, dovete muovervi cattolici, i fedeli si devono nuovere, basta con il discorso preghiamo, preghiamo, preghiamo. È chiaro che la preghiera, ma quella dovrebbe essere scontata la preghiera. Ma non basta la preghiera, bisogna anche muoversi. Ascoltiamo questa sacerdote. Questa intervista oggi, il 14 giugno, è di circa un mesetto e mezzo, un mese e mezzo fa. Allora. Buongiorno Don Enrico e grazie per aver accettato questa intervista. So che di questi tempi non è facile parlare. So che non è facile esporsi a difesa della sana dottrina cattolica contro l'impostura dominante di una falsa chiesa che ha occupato il soglio pontificio e ora mette a morte i suoi nemici. Prima di andare al punto, ci dia qualche informazione personale. Lei è sacerdote da quanti anni? E risponde Sono sacerdote da tre anni e mezzo, una vocazione adulta. Sono sacerdote diocesano, incardinato nella diocesi di San Severo, Foggia. Ho svolto la mia attività pastorale di viceparroco per tutto questo tempo. Domanda Chi è per lei oggi il Papa, Francesco o Benedetto XVI? Ecco, vi dico per evitare questa domanda e risposta, domanda e risposta, tutto il resto dell'articolo vi leggerò le risposte del sacerdote per renderlo più scorrevole. Innanzitutto vorrei dire che non è questione di simpatia o di sentire più vicino un Papa rispetto a un altro. È questione di verità. Non ci possono essere due Papi contemporaneamente. Io ritengo che per il fatto che Papa Benedetto XVI non abbia debitamente rinunciato al munus petrino nella sua declaratio, come richiesto dal canone per la validità dell'atto delle sue dimissioni, egli rimanga il vicario di Cristo. Come affermato qualche studioso ben qualificato, Benedetto XVI ha rinunciato all'esercizio attivo del ministero, ma non all'ufficio petrino, in altri termini, e questo per le persone che masticano poco di queste cose, ascoltate questa frase che è importante, in altri termini Benedetto XVI ha rinunciato all'esercizio attivo del ministero, ma non all'ufficio petrino. In altri termini è come se egli abbia rinunciato a fare il Papa, ma non a essere Papa. Ve lo rileggo. Ha rinunciato a fare il Papa, ma non a essere Papa. Continuo. Questo dato di fatto, dal punto di vista canonico, viene poi confermato dall'atteggiamento successivo di Benedetto XVI, il quale non ha rinunciato a farsi chiamare Santità, al nome, a firmarsi con la sigla che spetta solamente al pontefice regnante, pi puntato, pi puntato, che vuol dire pontifex pontificum, e spetta solo al Papa a firmarsi così. È rimasto nel territorio vaticano, ha mantenuto la talare bianca, sarebbe l'abito bianco, è intervenuto più volte in questi ultimi sette anni. Il titolo poi di Papa Emerito è qualcosa di insignificante, è così come il concetto di ministero allargato. Celebro in unione con Benedetto XVI, questo è importantissimo, perché come abbiamo sentito da Fra Alexis e anche da Don Minutelle, chi celebra in unione con Francesco è nulla quella comunione. Quindi questo sacerdote dice, celebro in unione con Benedetto XVI, essendo egli ancora il vicario di Cristo in terra. Ho maturato in coscienza, infatti, la decisione che non avrebbe più alcun senso celebrare in unione con chi non è il Papa legittimo, anche se viene riconosciuto tale dalla maggioranza. E coloro che celebrano in unione con il Papa legittimo non possono essere scismatici, piuttosto possono essere, in questa situazione anomala, ingiustamente sanzionati o scomunicati. E' importante anche questo, tant'è vero che Fra Alexis, quando io gli dissi delle due scomuniche a Don Minutella, Fra Alexis mi disse, ma non è mai stato scomunicato Don Minutella, perché ci vuole un Papa per fare la scomunica, e Bergoglio non è il Papa. Cattolici, ascoltate, ascoltate, bisogna muoversi, vado avanti. Cosa ne pensi delle dichiarazioni del Cardinal Dunnels, riportate anche da Monsignore Antonio Livi, da poco deceduto, dove appunto si è parlato di una vera e propria mafia di San Gallo, questione mai smentita dal Vaticano, che ha fatto leggere invalidamente Bergoglio al soglio pontificio. Che ne pensa? E risponde il prete, penso che le dichiarazioni di Dunnels siano attendibili e veritiere per il fatto che faceva parte di quel gruppo definito da lui stesso mafia di San Gallo. Inoltre, quel che colpisce è proprio il fatto che queste dichiarazioni non sono state mai smentite dal Vaticano in termini ufficiali, piuttosto il Cardinal Dunnels ha ricevuto onori e elogi al momento della sua dipartita. Dalle dichiarazioni di Dunnels, dunque, possiamo dedurre ragionevolmente che Papa Benedetto XVI abbia ricevuto forti pressioni per dimettersi, e che coloro che hanno orchestrato nel segreto lezione del Cardinal Bergoglio secondo la Costituzione Apostolica Universi, Dominici, Gregis sono scomunicati late sentenzia. Quindi tutti questi Cardinali che l'hanno eletto sono scomunicati e Bergoglio non è il Papa. Ascoltate, anche voi cattolici che già conoscete queste cose, ascoltate, puoi dire a cose importanti. Queste dichiarazioni sono un segno evidente che la massoneria ha preso il controllo della Chiesa e che questa neo-Chiesa favorisce la massoneria. La cosa più tragica è che la maggior parte dei cattolici non si rende conto di tutto questo oppure sta nella piena indifferenza. Mi chiedo dunque, se la massoneria non avesse influenza nella Chiesa, come potremmo spiegare ad esempio l'articolo che il Cardinal Ravasi ha pubblicato il 14, febbraio 2016 sul Sole 24 Ore dal titolo suggestivo Cari fratelli massoni andate a rivedere in archivio a cappone alla pelle nell'archivio del Sole 24 Ore in prima pagina. Continuo con il quale il Cardinal Ravasi attraverso questa lettera cerca di promuovere il dialogo e il perseguimento di valori comuni tra massoneria e cattolicesimo i cui documenti della Chiesa non parlano forse chiaro i battezzati affiliati alla massoneria sono scomunicati e quali dialogo e valori comuni può avere un cattolico con i massoni e come potremmo spiegare altrimenti attenzione la partecipazione del Cardinal Palorin alle riunioni del Club Bilderberg chiaramente di ispirazione massonica e come potremmo spiegare ancora secondo uno studio di padre Paolo Siano il fatto che Bergoglio abbia ricevuto nel solo periodo 2013-2017 almeno 67 lodi esplicite o implicite dai massoni di tutto il mondo può un cristiano cattolico tollerare le lodi e gli apprezzamenti della massoneria Bergoglio al posto che confermare i cattolici nella fede li disorienta crea dubbi sulla dottrina sui dogmi apre strade relativismo umulare li conduce all'eresia e impedisce di dare chiarimenti e permette a riti pagani in Vaticano benedicendo gli idoli tutto questo avvalora la tesi che non è il papa non è scelto dallo spirito santo per il cardinal Bassetti per esempio questi problemi non si pongono neanche egli afferma che non è d'accordo con ciò che dice e fa Bergoglio ed è libero di andarsene per la sua strada ma non è piuttosto che si erge sopra il Vangelo e la tradizione che sta andando per un'altra strada con Bergoglio infatti non si può parlare di santa chiesa cattolica apostolica istituita da Gesù Cristo e fondata sulla roccia che Pietro con Bergoglio abbiamo a che fare con una nuova chiesa che è falsa chiamata chiesa della misericordia ma una falsa chiesa e magistralmente è stata fatta passare come la stessa santa chiesa cattolica apostolica sono stati ingannati molti vescovi sacerdoti oltre che fedeli cose ancora più gravi i pastori con il loro silenzio costante hanno contribuito a portare avanti questa falsa chiesa possiamo dire però più in generale che ormai lo spirito cattolico si sta perdendo segno evidente è proprio il misericordismo ossia l'atteggiamento di una chiesa che annuncia la misericordia di Dio senza la conversione dal peccato senza chiamare i peccati con il loro nome ecco perché sant'alfonso del cuore afferma ne manda all'inferno più la misericordia di Dio che la sua giustizia questo significa che molte persone vanno all'inferno per una falsa concezione che hanno della vita e della misericordia di Dio che presumono così di salvarsi senza pentimento dei propri peccati altre caratteristiche di questa neo chiesa falsa chiesa in realtà sono descritte bene ad esempio dalla beata Emmerich la quale vedeva profeticamente per i nostri giorni formarsi di una chiesa grande strana stravagante nella quale tutti dovevano essere ammessi per essere uniti e avere uguali diritti e anche Monsignor Viganò parla di una neo chiesa che non è più cattolica egli ha affermato lo scopo di questa neo chiesa non è quello di portare il popolo eletto a riconoscere il massia ma quello di costituirci come braccio spirituale del nuovo ordine mondiale e fauterisce della religione universale massonica certamente il silenzio dei pastori fedeli è determinante per la costruzione di questa neo chiesa non più cattolica scopo della massoneria ecclesiastica è quello di istituire un'unica religione mondiale senza Gesù Cristo un nuovo umanesimo dove Gesù è escluso una nuova religione senza la croce la religione umanitaria dove al centro c'è l'uomo non Cristo la massoneria pretende invece di realizzare un mondo di pace di fratellanza di benessere materiale di sviluppo integrale dell'uomo la massoneria persegue un regno in terra costruito dalle mani dell'uomo ciò che il catechismo definisce uno pseudomessianismo intramontà mondano tenendo presenti queste cose possiamo capire meglio il contenuto della promessa della Madonna di Fatima ovvero il trionfo del suo cuore immacolato ai nostri giorni è importante più che mai consacrarsi a Maria pregare il rosario tutti i giorni e invece Bergoglio ha sempre cercato di sminuire la figura della Santa Vergine la nostra mamma santissima è stata paragonata a una postina una donna qualunque rinnegando la sua immacolata concezione e anche ora il suo ruolo di corredentrice per un cattolico è una grande ferita ogni volta che viene sminuita la grandezza della Vergine Maria nostra madre regina ripiena di ogni bontà e grazia lei è l'immacolata la medietrice di tutte le grazie la corredentrice titolo quest'ultimo che fa parte in pieno del patrimonio della tradizione Monsignor Viganò ha fermato in un'intervista con Valli i fedeli e lo stesso clero sono scandalizzati dal modo in cui Bergoglio parla della Madonna dalla disinvoltura con cui si permette di sminuire e umiliare la sua santissima persona senza mai usare i titoli che le spettano e guardandosi bene da ribadire l'insegnamento costante della Chiesa per questo penso che ciò che contraddistinguerà sempre più i veri cattolici dei falsi cattolici sarà la vera devozione a Maria come San Luigi di Monforte i grandi santi mariani hanno mirabilmente scritto insegnato e testimoniato con la loro vita riguardo agli immigrati mi è difficile capire le intenzioni di Bergoglio nel sostenere un'immigrazione senza criteri penso che questo si possa spiegare con il fatto che la neochiesa abbia aderito al piano del nuovo ordine mondiale come sostiene Viganò piano che persegue tra gli obiettivi l'indebolimento delle sovranità nazionali in vista della creazione del governo europeo e poi mondiale gravissima l'intronizzazione di Pachamama in Vaticano un italo pagano dopo la proiezione di immagini sulla facciata della Basilica Vaticana nel giorno dell'Immacolata del 2015 immagini relative a clima ambiente e nuovi dogmi dell'ideologia dominante e dopo la riabilitazione di Martì Lutero e l'intronizzazione della sua statua il 13 ottobre 2016 mese dedicata alla Madonna pensavamo di averle viste tutte invece no siamo rimasti più sgomenti a vedere quelle immagini e nel sinodo dell'Amazzonia tenutosi a Roma nell'ottobre scorso gli occhi fanno ancora fatica a credere che sia avvenuta realmente quella cosa la Bibbia parla chiaro è un peccato di idolatria la commissione con i culti pagani provoca l'ira e il castigo di Dio e il vescovo emerito Belemma Amazzonia Monsignor Azcona Hermoso ha detto chiaramente in queriti c'è il diavolo in queriti c'è la magia e la nostra signora non è la paciamama ma è le vergine di Nazareth alcuni esorcizi hanno confermato queste cose Monsignor Viganò inoltre ha affermato che bisogna riconsacrare la basilica di San Pietro e le altre chiese profanate da riti idolatrici in questo senso certamente Bergoglio con la sua predicazione e la sua missione sta spianando la chiesa all'avvento del regno dell'anticristo quando Bergoglio afferma che urge un'autorità politica mondiale oppure serve un nuovo umanesimo è necessario con il nuovo ordine mondiale e molte altre cose di questo tipo ebbene capiamo che in questo modo di parlare non c'è Gesù Cristo piuttosto il nome di Gesù sembra scomparire essere marginale per questi progetti globali perché la falsa e contraffatta chiesa della massoneria assumerà la falsa identità della chiesa cattolica ma sarà massonica ed ecumenica questi sono gli ultimi tempi che precedono il trionfo del cuore immacolato di Maria da quanto fu rivelato a Pavalione XIII tramite l'esperienza mistica Satana intraprende l'ultima battaglia contro la chiesa di Cristo penso a tal riguardo che le parole di Suor Lucia di Fatima nella sua intervista a Pate Fuentes nel 1957 siano davvero illuminanti per capire i tempi che viviamo riguardo a Don Minutella un sacerdote di fece de cattolica di coraggio e onestà intellettuale molto preparato alla battaglia che porta avanti e la battaglia per mantenere vivo lo spirito cattolico in tempo di apostasia in unione con Papa Benedetto che è l'unico Papa legittimo è arrivato il momento di unire le forze ascoltate cattolici ascoltate è arrivato il momento di unire le forze e soprattutto far capire che c'è una parte del popolo di Dio anche se minoranza e non compatta che non ci sta non si riconosce più in questa neochiesa che vuole rimanere nella tradizione cattolica penso che l'ostacolo più grande per molti sacerdoti nell'esporsi sia il fatto di ritrovarsi poi soli e marginati da tutti e di perdere le sicurezze umane il problema fondamentale è che la verità cattolica sembra ormai identificarsi col consenso della maggioranza e sembra l'unica preoccupazione della gerarchia e dei media non dare visibilità e importanza a coloro che resistono e si oppongono questi infatti vengono isolati rimossi messi a tacere screditati screditati incasellati tutti allo stesso modo cattolici estremisti o in mala fede li chiamano pensi a Monsignor Viganò costretto a vivere pensi alla dichiarazione di Ettore Gotti tedeschi quando afferma all'Iene il Vaticano può commissionare omicidi personalmente sono consapevole che questa mia intervista potrà suscitare le reazioni più diverse sono anche consapevole però che il Signore a volte si serve di strumenti insignificanti come può essere il sottoscritto per scuore per illuminare le coscienze questa è l'intervista dico sacerdoti cattolici contattatemi nella mia mail privata non c'è bisogno che mettate nome e cognome anche le semplici iniziali parlatemi della vostra sofferenza scrivetemi se volete che io legga la lettera pubblicamente io rispetterò fidatevi di me bisogna cominciare a contarci bisogna cominciare soprattutto a fare qualcosa a fare qualcosa adesso vedremo se riuscirò a coordinare qualcosa anche con Don Minutella e il caro fra Alexis altrimenti procederò da solo ma bisogna fare qualcosa bene cari amiche cari amici pollice su per il mio lavoro sempre incollati al decimo toro e se poi vuoi supportare il canale con la tua offerta leggi la descrizione sotto al video e ti ringrazio anticipatamente un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo un caro abbraccio